Tutti cercano il senso della vita, ma vi siete mai chiesti dove tutto inizia? La mia mente torna a una notte di primavera illuminata dalla luna, a un tempo in cui ero solo un singolo spermatozoo, che navigavo nel labirinto intricato delle tube di falloppio, avvolto in una triplice oscurità, ho lottato per la semplice possibilità di esistere, schivando ogni ostacolo sul mio cammino. Mentre assistevo a innumerevoli compagni fatti a pezzi, sapevo che solo uno su un milione avrebbe completato la missione. Per i caduti, il grembo materno diventava un cimitero. Nonostante il mio viaggio, ho affrontato innumerevoli battaglie e lotte violente, un alieno nel santuario materno. I problemi incombevano a ogni angolo. Immaginate la pura lotta per essere solo una singola cellula spermatica. Nella zona pericolosa, la mia testa, la mia coda, i miei 23 cromosomi si sono avventurati. L'utero, il primo stadio dell'inferno, un campo di battaglia che dovevo conquistare. Milioni si sono precipitati in avanti, ma sono stato io a fecondare l'ovulo. La vittoria sembrava vicina, ma le mie prove erano solo all'inizio. La vita è una lotta, la vita è una lotta. Andiamo.